Il 31 agosto ed il 1 settembre, in occasione del 600esimo anniversario dell'assedio al castello dell'Elonessa, nello splendido borgo di Montemiletto, si svolgerà la quinta edizione della rievocazione storica Siqua Fata Sinant, organizzata dalla Proloco Mons Militum, un grande mercato con botteghe medievali, giocolieri, teatranti, giullari ed ancora giostra medievale, sbandieratori, arcieri, falconieri si esibiranno in magnifiche rappresentazioni. 600 anni di storia, tutti da rivivere in due giorni.